Nella città della disfida batte il cuore bianco-rosso. Il calcio, il live motive di tanti cittadini innamorati di una maglia storica e blasonata, primi vagiti del Barletta Club, i bianco-rossi presentato in conferenza stampa, esposte le ragioni che hanno portato alla sua nascita e le sue finalità, a cui il club tende a creare una collaborazione effettiva e di crescita tra il sodalizio di Via Veneto e i supporters barlettani, quasi raggiunta quota 100 soci, ovvero 100 anime che ancora credono e sposano il progetto Barletta Calcio. Una piazza importante, quella bianco-rossa, che continua a rimanere viva nonostante una stagione calcistica piuttosto sofferta, uniti quindi per il bene della maglia. Il Barletta Club, i bianco-rossi, nasce con l'obiettivo di risvegliare la passione tra i tifosi bianco-rossi, passione ormai sopita, soprattutto grazie ai risultati deludenti che ha ottenuto la squadra in questo periodo. Noi non nasciamo in contraposizione con i gruppi della tifosieria organizzata, anzi, il nostro obiettivo è quello di collaborare sia con la tifosieria organizzata sia con la dirigenza del Barletta Calcio. Al nostro club si possono iscrivere tutti i tifosi di qualunque età, anche minorenni, pagando una quota inferiore a quella prevista per i suci maggiorenni.